Come si suol dire in occasione del gol a Livorno si dice che ce l'hai appoggiata? No, sì, oggi era importante mettere dei minuti sulle gambe, anche per chi aveva giocato un po' meno fino adesso in Coppa Italia, poi siamo allenati anche stamattina, quindi un po' eravamo sulle gambe, però è stato un buon test appunto per vista del campionato, perché si fa sempre più vicino e dobbiamo farci trovare pronti, quindi. Sì, anche perché il campionato si era venuto a cominciare oggi, invece è slittato appunto di 15 giorni. Indicazioni importanti, appunto e soprattutto mettere l'agonismo nelle gambe, forse quello che è un po' mancato, diciamo, l'inizio di quest'amichevole. Sì, sì, ma siamo tranquilli perché stiamo lavorando bene, ogni giorno cerchiamo di dare il meglio in allenamento, abbiamo fatto parecchi doppi, quindi adesso magari oggi era l'occasione giusta per mettere qualche minuto in più sulle gambe, insomma è stata una buona partita. Il complesso sicuramente è stato anche abbastanza un neccrescendo sotto un certo aspetto. Senti, come ti trovi questi schemi chiesti e voluti dal mister Panucci? Mi trovo bene e so che devo migliorare tanto perché il mio obiettivo è far bene con questa maglia e cercare di far più gol possibile per i miei compagni. Niente, stiamo lavorando di giorno in giorno e credo che la strada sia quella giusta, almeno sotto il livello dell'impegno.